Ciac Sigita, gli attori si stanno preparando e a breve inizieranno le riprese. Elisabetta Acide e altri docenti. Il corto ha ricevuto il parere favorevole della direttrice del parco archeologico di Pestum e Velia, Tiziana D'Angelo, che ha dato il consenso per farlo girare nei templi di Pestum. Liberamente ispirato alle troiane di Euripide, l'opera pone una serie di riflessioni sulla guerra, argomento di forte attualità visto il conflitto bellico tra Russia e Ucraina, che conta decine di migliaia di vittime tra soldati e civili. È un momento di grande ansia, stanno iniziando le riprese. Proprio qui potete vedere sul set gli attori all'opera. È stato difficile interpretare il vostro personaggio? Per me più o meno. Ho fatto parecchi anni di recitazione, però comunque non essendo una persona autoritaria ed essendo comunque Atene una dea della sapienza, delle strategie di guerra ed essendo molto autoritaria come dea, diciamo che ho dovuto tirare la parte fuori migliore di me. È stato difficile anche per me perché non ho avuto modo di studiare bene la parte, magari guardando altri attori, recitare nel ruolo di Poseidone per prendere ispirazione. Quindi ho provato a dare l'impostazione più, come dice, gaglia, autoritaria. Spero che sia uscita bene, ardua sentenza ai posteri. Come è nata quest'idea, questo progetto? Ma sì, è stata una proposta della professoressa Acide, l'insegnante di religione che ha già fatto, ha già partecipato diverse volte e quando me l'ha detto non immaginavo che cosa saremmo riusciti a realizzare. Però ho pensato appunto al discorso delle troiane, insomma al discorso della guerra, con l'idea di fondo che nella guerra perdono tutti, insomma non soltanto appunto i vinti ma anche i vincitori perché la guerra crea dolore dappertutto. E quindi è nata l'idea delle troiane che abbiamo proposto a voi come lettura, naturalmente in traduzione perché il testo è anche molto impegnativo in greco e che avete rielaborato in modo molto, cioè molto bello, ecco. Poi abbiamo aggiunto delle parti moderne, magari Gianna vuoi parlare? Molto bene, sì, come sta procedendo, come lavorano i ragazzi? Allora, i ragazzi stanno lavorando bene, adesso siamo solo alla seconda scena. Devo dire che hanno lavorato molto bene nella fase di preparazione perché noi abbiamo pensato di rendere attuale la lettura delle troiane perché purtroppo da più di un anno sta durando la guerra in Ucraina e continua anche in altre parti del mondo. E quindi la condanna della guerra che emerge da questo testo che ha 2500 anni è ancora attuale e quindi abbiamo alternato delle scene tratte dalle troiane con dei riferimenti all'attualità e quindi è un lavoro molto emozionante. Per me è la prima volta, avevo già sentito parlare di questo progetto e sono contenta che la professoressa l'abbia proposto noi. Allora, sei pensato in scena? Sei emozionato? Certo, sì, non ho mai recitato e quindi sono un po' teso ma anche felice di essere qui. Io interpreto Ecuba. E io sono Cassandra. Come vi sentite prima di entrare in scena? Allora, leggermente in ansia in realtà, è la prima volta che partecipo a un cortometraggio ma penso tutti quelli all'interno di questa iniziativa, però non vedo l'ora sinceramente. E tu, Chiara, che cosa ne pensi? Io sono un po' nervosa però sono anche molto emozionata perché è un'esperienza che non vedevo l'ora di fare e quindi sono molto felice. Bene, i ragazzi sono molto soddisfatti, si stanno impegnando tantissimo. Non avevo dubbi perché sono due classi che hanno preparato molto bene, prima con la lettura della tragedia e poi con l'elaborazione della loro sceneggiatura. Io ho sempre creduto in questo progetto e non è la prima volta che collaboro con Gianni Petrizzo, la sua equip, con Francesco Cairone che organizza il tour e offre l'opportunità agli studenti di fare questa grande esperienza. Ecco, io posso dire che la scuola che promuove queste cose è davvero una scuola buona, che è attenta alle esigenze dei ragazzi, che li fa crescere, che li fa maturare. E accanto all'aspetto culturale, formativo ed educativo del cinema e della rappresentazione delle loro passioni, dei loro sentimenti, abbiamo anche questo aspetto importante che è la traduzione che dalla cultura diventa esperienza. Beh, siamo sicuramente emozionate, non vediamo l'ora di recitare la nostra parte e di vedere come viene. Sì, siamo tutte molto emozionate e speriamo di trasmettere le emozioni a quelli che guardano. Molto bene, tu cosa ne pensi? Siamo appunto tutte molto emozionate e speriamo di recitare bene e di trasmettere le giuste emozioni. Sicuramente. Io sono emozionatissima anche perché non ho mai appunto registrato un film e partecipato a un film e quindi spero che vada bene. Anche io come le mie compagne non ho mai partecipato a un cortometraggio e spero di dare il meglio. Anch'io sono molto emozionata, non ho mai fatto cose di questo tipo, quindi sono contenta. E qual è il vostro ruolo? Telecronisti! Siete emozionati prima di entrare in scena? Sì, molto, anche perché non sono abituata a questo genere di cose e penso sia un'esperienza interessante. Tu, Francesca, cosa ne pensi? Io non vedo l'ora, sono un po' emozionata perché ho paura che qualcosa vada stordo, però spero, insomma, siamo carichi. Tu, Mavi? Io invece sono molto emozionata ma allo stesso tempo un sacco felice e mi piace proprio questa esperienza. Bene, bene, tu Giulia? Molto contento di questa esperienza che stiamo facendo, cercherò di medesimarmi al meglio. Ripassano le loro battute. Andromaca? Eh no, devi dirlo perché sennò... Eh, lo so però sui tutti. Certamente il poter interpretare il mio personaggio preferito, diciamo, dell'Iliade, è appunto Andromaca, questa mamma che perde il marito, amatissimo, perde il figlio, quindi, insomma... Hai qualche citazione di Andromaca che vorresti condividere con noi, che in particolar modo ti ha colpita? Durante il suo incontro sulle mura di Troia con Ettore, Andromaca esprime il suo dolore, la sua disperazione, gli chiede di non andare in battaglia e gli dice Ettore Dunque per me tu sei padre e madre adorata, ed anche fratello, sei il mio splendido sposo. Noi sappiamo che la famiglia di Andromaca è stata sterminata da Achille, dunque per lei Ettore è tutto, Ettore è il figlio a Stianatte, sono tutto per lei. Ora siamo con Cassandra. Cosa pensi di questo costume, Cassandra? Molto bello, mi piace, è un pochino stretta la gonna, infatti non posso muovermi tanto, però dai, hai dei bellissimi sandali. Sicuramente ci impegneremo cercando di non pensare alla nostra persona, ma pensare solo al personaggio. Esatto, cercheremo di trasmettere tutte le emozioni. Cosa ti affascina di più di questa esperienza? Boh, è una bella esperienza e spero che facciamo un bel film e di vincere tutti e tre i festival. Stiamo andando verso il nuovo set a registrare la parte dei giornalisti, siamo qua con Lucia. Come ti senti? Sei emozionata? Sei pronta? Ma sì, mi sento pronta e sono un po' emozionata, però spero che venga tutto bene, dai, alla prima, che ho voglia di fare un giro da un'altra parte. Ok. Benissimo ragazzi, io lo dico sempre, quando c'è un gruppo funzionale, attento, entusiasta di realizzare una storia cinematografica, per me è molto facile, quindi diventa più un gioco, una passeggiata, lavorare. Devo dire che ho trovato un gruppo stupendo, come sempre, perché i ragazzi di Elisabetta sono eccezionali, attenti, impegnati. Davvero non ci sono parole per raccontare questa bellissima esperienza che ancora una volta, nonostante tanti anni che faccio questo mestiere, e mi entusiasma sempre grazie a voi che, appunto, seguite per bene tutto il lavoro cinematografico. E ancora una volta è stata una fantastica esperienza, con Gianni lavoriamo da dieci anni e ogni volta è sempre una scoperta e un piacere poter lavorare con lui che professionalmente è sempre ricco di spunti, di idee. Complimenti ai ragazzi perché ancora una volta sono stati non bravi di più. E un grazie particolare alle colleghe, la professoressa Pessano Alessandra e la professoressa Buffa Gianna, che hanno contribuito non poco, non solo a preparare la sceneggiatura con una puntualità estrema dal punto di vista culturale, ma anche a seguire con le riprese. Quindi è stato veramente un lavoro di squadra importante. E voglio ringraziare anche Cairone, Francesco, che ancora una volta ci offre la possibilità di fare questa grande esperienza. Grazie anche ai genitori che hanno creduto in questo progetto e che hanno consentito ai ragazzi la partecipazione al viaggio di istruzione. Grazie ad Andrè che, come sempre, collabora in modo esemplare e con la sua presenza consente anche ai ragazzi di apprezzare questo lavoro preziosissimo dietro le quinte. Grazie. Grazie.